La vostra biblioteca non vi lascia mai soli e oggi Luca e... Daniel? Insieme a un nutrito gruppo di spettatori arrivati per l'occasione... Oi, ma ce n'è uno addormentato! Sveglia! Guarda che c'è la storia! Sveglia! Sveglia! Eh, meno male, dai! E dicevamo, oggi Daniel e Luca vi presentano una fiaba di Gianni Rodari dal titolo Il semaforo blu. Andiamo a cominciare. Una volta il semaforo che sta a Milano in piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci ad un tratto si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi. Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? Scusa, che cos'è un semaforo? Gattino, un semaforo è una specie di palo con delle luci per far capire alla gente e alle macchine se possono passare. Rosso non passi, verde passi, giallo stai un po' attento. Vatti a sedere, gattino, gentilmente. Scusate i bimbi, andiamo avanti. Da tutti i suoi occhi e in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu di un blu così blu che il cielo di Milano non lo era stato mai. In attesa di capirci qualcosa, gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano «Lei non sa chi sono io!» Guardali qua. Perché è pieno di aquile? No, 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 elefantino non sono aquile, sono piccioni, questi sono piccioni, capito? Poi un elefantino non si dovrebbe preoccupare di aquile, viste le dimensioni. Comunque, gli spiritosi lanciavano frizzi e scherzi. Il verde se lo sarà mangiato il commendatore per farsi una vignetta in campagna e invece, ad esempio, il rosso lo hanno adoperato per dipingere i pesci ai giardini e il giallo, il giallo, lo sapete cosa ci fanno con il giallo? Allungano l'olio d'oliva. Incredibile! Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile, invece, cercava la cassetta dei comandi per riparare il guasto e così tolse la corrente. Eccolo qua. Che cos'è un vigile? Ma che cos'è un vigile? Grazie, elefantino. Un vigile è un signore che sta lì a dirigere il traffico, a dire alle macchine se possono passare o non passare. Mi fa piacere. Grazie, elefantino. Adesso, se possiamo proseguire con la nostra storia... Mi scappa la pipì. Sì, cucciolo, vai a fare la pipì. Vai pure a fare la pipì, noi andiamo avanti con la storia. Beh, prima di spegnersi, il semaforo blu fece in tempo a pensare. E che cosa pensò? Pensò, poveretti, io avevo dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio. Si vola, si vola, si vola, si vola. Il peluche non è mancato il coraggio. Ecco, a loro quantomeno no. E con questo, la nostra storia finisce qua. Ho perso qualcosa? Sì, no, puoi tornare. Ecco, tutto è quello della pipì. Grazie mille, ci vediamo alla prossima fiaba. Un ciao di nuovo da Luca e l'aiutante qua, Daniel. Fatti vedere, Daniel, che fai ciao. Ciao. Ecco lo qua.